La pista ciclopedonale di Padiglione, frazione di Tavuglia, torna sotto la lente di ingrandimento dei social. Dopo diverse polemiche apparse sui gruppi Facebook e alcune segnalazioni inviate da qualche telespettatore, sono emersa una serie di lamenteli inerenti all'area per bici e pedoni che da Padiglione collega fino a Montecchio di Vallefoglia. Ciò che viene criticato è la mancanza di asfaltatura di buona parte del tratto, che si è presente in condizioni critiche a partire dalle scuole medie di Pian del Bruscolo fino ad arrivare all'incrocio con strada Re dei Gatti. Sul percorso in questione, circa un anno fa, successivamente ai lavori di rifacimento e ampliamento delle funiature da parte di Marche Multiservizi, il comune di Tavuglia ha realizzato un nuovo sistema di illuminazione attivo da inizio 2023. Gli scavi per questi lavori effettuati sull'asfalto della pista ciclabile hanno poi fatto sì che in un primo momento il tratto venisse cosparso di ghiaia in attesa che il terreno si assestasse. Terminati i giorni instabiliti, la ditta appaltata si è attivata per svolgere il rifacimento di una parte del manto stradale della pista ciclabile. Lavori a metà fatti anche a seguito delle complicazioni avvenute sempre circa un anno fa, quando le operazioni di asfaltatura erano state anticipate, provocando però poi diverse buche lungo il tratto pedonale. A questo punto, con una manovra più attendista, le operazioni di completamento del manto avrebbero dovuto svolgersi attorno a metà maggio, ma la ditta appaltata con sede nel Cesenatico avrebbe avuto una serie di complicazioni a causa delle criticità provocate dall'alluvione. Di conseguenza le tempistiche si sono prolungate di qualche mese. In accordo con il comune di Tavuglia, la ditta si è riorganizzata provvedendo a completare i lavori di asfaltatura della pista ciclopedonale dal 10 al 14 luglio 2023.